Ciao bambine, ciao bambini, sono Nonna Antonella e racconto storie. Una volta un asinello, dopo aver portato due sacchi di grano per il suo padrone, stanco ed avvilito, si era messo seduto nell'erba di un prato ed ecco che ai suoi piedi una piccola vide, una piccola formica, che trasportava un grosso fuscello, dieci volte più grande di lei, tanto che era persino difficile vederla, la formica. Vedete bambini, non si vede proprio, eppure c'è. L'asinello stette un poco a pensare, poi si rivolse alla formica dicendole, quanto ti ammiro, sei bravissima, tu porti sulle spalle, come se niente fosse, un carico dieci volte più grosso di te. Io, invece, ho portato solo due sacchi per il mio padrone e le ginocchia già mi si piegano e mi sono dovuto fermare per riposarmi. Ma com'è possibile questo? La formica si fermò un momento e rispose, è semplice, io lavoro per me stessa, per la mia famiglia e stiamo costruendo il nostro formicaio ed ognuno ha un compito e tutte collaboriamo e così stiamo bene e possiamo accudire le formichine appena nate. Tu, invece, lavori per un padrone che ti maltratta e non sei contento. Dunque è per questo che io riesco a portare questo fardello così pesante. La formica dunque si mise a camminare per portare il suo fuscello al formicaio. Cosa ci insegna questa storia, bambine e bambini? Io penso che come prima cosa ci insegna che se lavori per te stesso o anche se studi perché vuoi migliorarti, la fatica si riesce a fare con facilità e si ottengono risultati inimmaginabili. Poi io direi anche che questa storia ci insegna che la formica è amata e ama le sue amiche del formicaio e dunque lavora per tutto il formicaio e ottiene grandi risultati. E pensate cosa fanno le formiche per collaborare fra di loro. Quando incontrano un fosso e non riescono a superarlo, allora alcune formiche scendono nel fosso e vanno e si mettono una sopra l'altra fino che non raggiungono il limitare di questo abballamento e così le formichine possono passare sui loro corpi e possono portare velocemente il cibo nel formicaio. Quindi vedete come l'unione fa la forza e anche noi dobbiamo comportarci i miei cari bambini e i miei cari bambini come le formichine e quindi avere, fare delle cose per gli altri e sappiamo già in partenza che quando facciamo qualcosa per qualcuno in realtà avvantaggiamo anche noi stessi. Le formiche anche se sono piccole piccole, questo lo sanno e noi dobbiamo prendere esempio da loro. Miei cari bambine e miei cari bambini. Se questa storia vi è piaciuta iscrivetevi al mio canale e mettete tanti mi piace e soprattutto suonate con me la campanella. Ciao bambine, ciao bambini, a presto, anzi prestissimo.